Probabilmente hai visto questa immagine e ti sei chiesto se è reale o meno. Ti presentiamo Loistiti Pigmeo, conosciuto anche come la scimmia delle dita. Sono originari della foresta pluviale del bacino amazonico occidentale, in Sud America. Sono noti per essere le scimmie più piccole del mondo. Pesano poco più di 100 grammi e hanno catturato il cuore di milioni di persone sui social a causa della loro dolcezza. La loro dieta consiste principalmente in cisti di gomma prodotte dalla linfa degli alberi. Mangiano anche nettare di fiori, frutti, larve e piccoli insetti. Sebbene non siano considerati una specie a rischio di estinzione, devono affrontare la distruzione del loro habitat. Possono adattarsi ai nuovi ambienti meglio della maggior parte delle altre specie, il che potrebbe tenerli fuori dalla lista delle specie a rischio di estinzione. Nonostante ciò, non sono adatti come animali domestici, poiché hanno comunque bisogno di un ambiente complesso e ricco, che è quasi impossibile da replicare per la maggior parte delle persone.